No, dico, uomo di scienza e di cultura, mi sembra che lei si sia come, eh, avventurato. Vabbè. Quindi? E quindi, che fanno? Eh? Che fanno? Se fanno una partita a carte. Ma come che fanno? Che siamo? Dove siamo? Dove siamo? A striscia la notizia. Sì, e ci sarà qualcosa dopo, no? Eh? Dica, che cosa c'è adesso? Cosa? Che? Che? Aspetta! Scusate, ma che c'è? Ma che fanno? Che c'è? Che faggina è? Ma che vuol dire che faggina? Dica, dica! Ma è finito? Ma come è finito? Ma io ho cinque fogli? Ma fate voi, scegliete voi un foglio. Ah, le veline? Ma che c'entrano le veline adesso? Mi ha detto... Vabbè, è qualcosa che tocca fare. Eh? Qui tra un po' finisce. Forse è già finita. È finita? Si è accesa dalla telecamera, non è finita. Allora, ci vediamo domani? Ma no! È presto. Dopo di noi c'è Carabinieri 2. Ma no, dopo! Adesso c'è? Oh, io non lo so che c'è. Non ce l'ho. C'è un servizio? Ma di chi? E che ne so, c'è o non c'è? E ci sarà, ma non c'è invece, quindi? Quindi arrivederci. Ma no, quello dopo, adesso. Le veline, chi c'è? Non ci sono le veline. Vado io via? Se non viene nessuno, vado io via. Ci vediamo tra poco. Questo è.